Salve a tutti, bentornati sul mio canale. Mi presento per chi si connette oggi per la prima volta. Io sono Cinzia e dal 2012 gestisco il blog Sapore di Libri, dove mi occupo di recensioni letterarie e anche di autori emergenti. Per cui se siete interessati a sottopormi il vostro libro da recensire e da promuovere o per qualsiasi altra richiesta di collaborazione potete contattarmi all'indirizzo che trovate qui sotto nel box informazione saporedilibri.it Chi segue questo mio canale già sa che io utilizzo questo spazio per parlarvi e per promuovere appunto le opere che ho letto o quelle che più mi hanno colpito. Stavolta voglio un attimo autoincensarmi e prendere un po' di spazio per parlarvi della mia ultima creaturina, un librettino piccolo che ho scritto io. Faccio vedere la copertina, questa sono io e lì il titolo è abbastanza ironico, si intitola Ho sbloggato e sottotitolo Pensieri le opinioni di una blogger poco opinionista e molto opinabile. Scrivere chi mi conosce sa che comunque è stata sempre la mia grande passione insieme alla lettura. Io sin da piccola ho sempre scritto tantissimo, da piccola scrivevo dei raccontini che poi andavo a trascrivere su un quaderno e purtroppo questi quaderni poi sono andati persi e è una cosa che comunque mi dispiace perché avrei voluto rileggere quello che scrivevo all'epoca anche perché avevo tantissima fantasia che adesso la fantasia che avevo da bambina me la sogno. Poi crescendo scrivevo diari che anche quelli purtroppo non so che fine abbiano fatto e con l'avvento del pc ho cominciato a scrivere sul pc e ho archiviato quindi non ho mai cancellato niente di fatto di quello che scrivevo per cui io ho degli scritti risalenti veramente a 15 anni fa e non li ho mai cancellati perché dentro di me ho sempre pensato che prima o poi magari avrei potuto pubblicarli anche se di fatto non mi sono mai sentita all'altezza di essere scrittrice proprio perché io da lettrice ho un rispetto immenso per la scrittura quindi ho detto no ma io non posso scrivere e mettermi all'altezza che ne so di scrittori che veramente hanno come Leopardi non so che hanno scritto veramente loro meritano di essere chiamati scrittori io no però poi nel corso degli anni col fatto che è diventato più semplice pubblicare libri perché comunque adesso è più semplice anche meno dispendioso per cui veramente pubblicano chiunque e gente che magari non ha mai letto un libro gente che non sa neanche parlare italiano per cui ho detto ma se lo fanno loro ma perché non lo faccio io alla fine c'è cos'è che ho meno di loro e per cui appunto ho iniziato a prendere in considerazione quest'idea poi nel corso degli anni e visto che io comunque sui social sono molto attiva e liberamente ogni tanto mi è capitato di pubblicare qualche mio pensiero e molti dei miei amici virtuali e non mi hanno detto ma però insomma sei brava scrivi cose interessanti scrivi insomma ci piacciono i contenuti ci piace come scrivi ma perché non pubblichi ma perché non scrivi un libro me l'hanno detto uno me l'ha detto due me l'ha detto tre alla fine ho detto ma sai che c'è magari io veramente ci provo perché può uscire magari qualcosa di di carino e ovviamente non ho scritto un romanzo perché per scrivere un romanzo ci vuole credo veramente delle delle basi che io non mi sento di avere anche a livello tecnico e per cui ho detto vabbè non sono al momento veramente all'altezza di scrivere un romanzo però ho scritto diciamo questi pensieri che avevo messo insieme questi pensieri che avevo raccolto nel corso degli anni col fatto che c'è stato che c'è adesso la quarantena per cui siamo bloccati in casa li ho risistemati li ho corretti e li ho alla fine pubblicati e quindi ha una raccolta di pensieri e alcuni più brevi altri un po più lunghi alcuni proprio semplici aforismi altri invece un po più più complessi e piccoli raccontini aneddoti di vita vissuta quindi proprio istanti che io ho fotografato con la mente e poi ho rimesso nero su bianco per non dimenticarmeli appunto per tenermeli sempre con me perché magari mi ha colpito quel momento oppure mi ha colpita la persona e fra tutti questi c'è una persona che più di tutte mi ha colpito e la persona in questione la trovate nel racconto la rivincita di giorgio perché quel ragazzo davvero mi è rimasto nel cuore lui lo sa perché quando ho avuto modo di parlargli gliel'ho proprio detto a voce se lui mai dovesse leggere questo libro dovesse leggere il suo racconto e riconoscersi insomma spero che la cosa gli faccia piacere perché veramente si merita tutto perché è un ragazzo dolcissimo ragazzo che merita tanto e poi ci sono anche riflessioni sulla vita riflessioni appunto sulla società su quello che sta succedendo al momento sul coronavirus un po di tutto quindi diciamo che ci sono due parti la parte di me un po più giocosa un po più scherzosa più ironica invece la parte di me anche un po più introspettiva che gli piace analizzare le cose perché di fatto io sono questa chi mi conosce lo sa sono una persona molto ironica molto anche scherzosa però allo stesso tempo molto molto introspettiva che gli piace una persona a cui piace comunque andare a fondo nelle cose e non fermarsi alla superficie e questo libro l'ho scritto tutto io quindi l'ho scritto l'ho redatto l'ho controllato l'ho fatto la copertina ho fatto tutto e da sola sono andata l'ho riletto 20 mila volte sono andata a pubblicarlo una volta che l'ho pubblicato l'ho riletto nuovamente e mi sono accorta che c'erano dei refusi numero uno quindi mi scuso se ci sono questi refusi ma semplicemente non so come mai prima mi erano mi erano mi erano sfuggiti alle letture precedenti e poi ovviamente siccome mai una gioia giustamente l'ho notati quando ormai il libro era già pubblicato e non potevo più correggerli comunque ripeto non sono errori di grammatica sono semplicemente dei refusi di battitura chiedovenia il libro è stato pubblicato su amazon e per il momento soltanto in versione ebook poi più avanti vedrò sta il caso appunto di abbinare anche la versione cartacea e per chi non conoscere non non aveste appunto a disposizione un e reader quindi un ebook o un kindle il problema si può inviare scaricando dal play store del telefono l'applicazione che si chiama kindle ha proprio scritto kindle quindi la scaricate sul telefono ve la installate sul telefono poi da lì e digitate appunto il mio nome e cognome oppure il titolo sbloggato e ve lo scaricate ve lo leggete sulla direttamente sul cellulare tanto sono una sessantina di pagine insomma si legge abbastanza velocemente il prezzo e ho messo il prezzo più basso che potevo mettere 99 centesimi quindi il prezzo di un caffè e al massimo rinunciate insomma un caffè al giorno detto da una che se ne beve 15 al giorno e tutto dire rinunciate al caffè vi leggete il mio librettino e mi fate sapere quello che ne pensate e ripeto non voglio incensarmi tanto non voglio appunto elogiarmi perché non sono una persona che si elogia anzi mi sono sempre per mia natura andata a diciamo autodistruggere cosa che non voglio più fare però insomma ci tengo a visto che comunque ci ho messo tanta passione mi farebbe piacere che lo leggiate soprattutto in questo periodo di quarantena magari vi può tenere compagnia in queste lunghe giornate poi vi ripeto comunque si legge velocissimamente e appunto se vi va di farmi sapere cosa ne pensate quale racconto vi è piaciuto di più insomma critiche purché costruttive insomma quello che vi pare me lo fate sapere o qui sul blog oppure direttamente sotto amazon nei feedback e niente io vi ringrazio di avermi ascoltato vi invito nuovamente a leggere il mio libro questo è e ho sbloggato pensieri opinioni di una blogger poco opinionista e molto opinabile e vi ricordo poi il mio blog per chi volesse appunto leggere le recensioni che è quello che di cui mi occupo principalmente sapore di libri www.saporedilibri.blogspot.com e vi ringrazio di avermi ascoltato vi auguro una buona giornata una buona serata sempre in base a quando vedrete questo video e niente alla prossima e grazie ciao